Stop per lavori al transito sul Ponte Rosso e modifiche a limiti di velocità e di vieti di sosta. L'estate inizia all'insegna delle novità e dei disagi, in alcuni casi per gli automobilisti che frequentano Voghera. I lavori di consolidamento del ponte sullo Staffora inizieranno il 5 luglio per concludersi, secondo quanto ha riferito il Comune, nella prima decada di agosto. Il traffico leggero sarà quindi deviato in strada Grippina, mentre i mezzi superiori a 35 quintali dovranno utilizzare le strade provinciali afferenti. I lavori al Ponte Rosso avviati nell'autunno 2020 e che ora entrano nella fase finale sono stati finanziati da Regione Lombardia con 228 mila euro. Altre novità viabilistiche si registrano in Piazza Duomo che il Comune ha deciso di tenere chiusa, quantomeno per la parte nord, tutti i sabati fino a settembre. In questo modo è stata così prolungata un'iniziativa nata per consentire ai locali di avere uno spazio esterno aggiuntivo e che in autunno potrebbe diventare definitiva con l'aggiunta di altre iniziative di pedonalizzazione parziale della piazza. Ma le novità viabilistiche dell'estate a cui prestare attenzione per evitare multe o spiacevoli sorprese non sono finite qui. Nuovi divieti di sosta sono comparsi infatti per esempio in via Barenghi nei pressi dell'incrocio con via Volturno, dove spesso il transito diventa difficile a causa delle auto parcheggiate nei pressi dell'ospedale civile. Allo stesso tempo si abbassa a 30 km orari il limite di velocità in altre zone come accade in strada Montrucco a seguito delle proteste dei residenti per la velocità eccessiva delle auto.